Chiesto il processo per la direttrice del carcere di Vasto, Giuseppina Ruggero, e per l'agente della polizia penitenziaria, Antonio Cagliazza, accusati di concorso in omicidio colposo e di una serie di gravi omissioni in relazione al suicidio in carcere dello psichiatra Sabatino Trotta, che si tolse la vita la sera del 7 aprile 2021, poche ore dopo essere stato arrestato. In sostanza, sulla base di quanto ricostruito dal sostituto procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, la morte di Trotta, dirigente della ASL finito in manette nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pescara sugli appalti per i servizi psichiatrici extra ospedalieri, si sarebbe potuta evitare. Spetterà ora il GUP del Tribunale di Vasto, nel corso dell'udienza che si terrà il prossimo 15 giugno, decidere se rinviare a giudizio i due imputati, difesi dagli avvocati cristiani Bertoncini e Massimo Solari, mentre gli avvocati Ernesto Torino Rodriguez e Daniele Bartolo Mucci assistono i familiari di Trotta. Alla direttrice Ruggero si contesta in particolare di avere richiesto un colloquio immediato con Trotta, inducendo in tal modo il detenuto a chiedere il differimento del colloquio psicologico e di tutti gli altri passaggi obbligati. Altre omissioni, per certi aspetti eclatanti, riguardano il fatto che nessuno sottopose Trotta ad un'accurata perquisizione, tanto che gli venne lasciato il laccio del pantalone della tuta, con il quale poi si sarebbe impiccato, e lo stesso Trotta ebbe anche modo di introdurre in cella della sostanza stupefacente. Senza contare che allo psichiatra fu perfino concesso di utilizzare un televisore in cella, grazie al quale ebbe modo di conoscere tutte le notizie sul suo arresto. Ma soprattutto, per la procura vastese, la direttrice avrebbe fatto saltare l'intero interprocedurale che avrebbe dovuto portare Trotta a sottoporsi alle visite dello psicologo e dello psichiatra, visite che avrebbero potuto individuare i fattori di rischio, salvando in questo modo la vita al detenuto. All'agente Cagliazza si contesta invece di non avere sorvegliato Trotta in cella tra le 20.43 e le 23.34 di quella sera, anche soltanto attraverso lo spioncino. Un'attività che avrebbe permesso di impedire a Trotta di prepararsi al suicidio e di assumere cocaina poco prima di togliersi la vita.